Lo sport prima e il brindisi poi, in mezzo tante testimonianze e solidarietà e la visita, tanto inaspettata quanto gradita, del CT della Nazionale Italiana di Pallavolo Davide Mazzanti. Sono stati questi gli ingredienti della serata organizzata lunedì 19 dicembre dal Comitato Provinciale CSI, che alla palestra Tombari di Bellocchi di Fano ha dato vita al Natale dello Sportivo, un momento dove hanno trovato spazio sia un triangolare di calcio a 5 tra le rappresentative di tre parrocchie locali, sia il racconto di tanti aneddoti da parte di quelle realtà, in primis la visfano, che da sempre sono vicine al centro sportivo italiano e ne condividono con esso i principi. Poi, come detto, l'arrivo di un amico, Davide Mazzanti, che nonostante gli impegni con la Federazione Italiana Pallavolo ha voluto portare il suo saluto e la sua avvicinanza al CSI, ente dove lui stesso ha mosso i primi passi della sua carriera costellata poi di successi. Durante la serata, partecipata da tanti amici e atleti del Comitato, e nel quale ha trovato spazio anche un momento di preghiera con il consulente ecclesiastico del CSI Provinciale, Don Steven Carboni, sono stati raccolti fondi in favore della Casa della Comunità Parrocchia San Paolo Apostolo e sono stati sciorinati quelli che sono i numeri del CSI Pesaro Urbino, che passato il momento più critico della pandemia, ha saputo ripartire con tutte le proprie attività coinvolgendo centinaia e centinaia di persone di tutte le età.